Abbiamo qui con noi il famoso fegato di un veneto. Sì. Com'è essere così celebri ed essere comunque il fegato di un veneto? Beh, allora, che dire, sì, la celebrità fa comunque molto piacere, anche perché, insomma, mi considerano anche come una specie di eroe. Rispettano molto il lavoro che faccio, quindi sì, fa davvero piacere. Poi, per quanto riguarda appunto essere il fegato di un veneto, beh, come si può immaginare, sì, è davvero dura, è tanto dura. Però, da un certo punto di vista, è anche divertente, no? Perché... Scusate. Scusate. È che... Comunque, lui passa tutto il weekend a bere in continuazione 24 ore su 24 ed è... è davvero tanto, tanto difficile. E poi... Poi uno pensa... Durante la settimana si ferma, no? Si riposa per poter affrontare il weekend successivo. Invece lui... Lui no. Finito di lavorare va... Va a fare aperitivo, no? Scusate. Spegnete. Spegnete. Scusate. 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 Scusate.